Yuki e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo finalmente con un nuovo episodio del comprare o meno, a questo giro con Battle of Legends Terminal World, più o meno, vabbè, nel senso vendita terminale, Terminal World era il set giapponese. Ovviamente però ragazzi prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di Battle of Legends Terminal World, il set che andremo ad analizzare adesso. Quindi trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jaxx, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di roba giapponese e coreana. Quindi se volete spacchettare fotbo in coreano, loro ce l'hanno. Se volete spacchettare il nuovo set di One Piece in giapponese, loro ce l'hanno. Quindi nel senso, cosa volete di vita alla vita? Niente, referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon o One Piece, trovate il link del mio Instagram qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare e vi converto le carte in soldi, che effettivamente non è male. Almeno così vi comprate Battle of Legends Terminal World. E quindi è tutto un enorme circolo ludopatico che rende tutti felici. Detto questo, andiamoci a vedere il set, tutti insieme, e capiamo se effettivamente conviene comprarlo o no. Oh, bene Renz, allora, questo è un po' il first reveal del set, perché effettivamente, cioè, lo abbiamo visto poco. E ora bisogna capire se conviene o meno acquistare, perché dobbiamo investire dei soldi in questo set e capiamo effettivamente se ne vale effettivamente la pena. Bene, Renz, partiamo adesso con l'analizzare il set. All'interno possiamo trovare tante carte interessanti, tante reprint e tanta roba nuova. Tra la roba nuova, ovviamente, da come dice il nome, troviamo la roba della Lore Duel Terminal, ovvero i Genex, i Barriere di Ghiaccio, gli Spiritual Beast e ovviamente l'Infernoid. Bene, e fin qua non mi sembra che il set sia sbagliato. Poi Konami ha deciso di aggiungere altre carte, che praticamente vengono dall'Animation Chronicle giapponese, che sono tanta spazzatura, tipo questo, il Toy Tank, di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Però, diciamo, è carino. Roba come Agnone e Catione, che a me fa molto ridere e effettivamente voglio provare a buildare una roba. Pensavo che quelle due cose fossero le mie palli arancioni e blu perché ce le ho girate, cioè nel senso. Ah, no, pensavo che c'essi due enormi spermatozoi, però ok. No, no, sì, va bene, uno è quello della palla destra, uno è quello della palla sinistra, uno è incazzato e l'altro boffredo come il ghiaccio, forse è morto. Poi, oltre questo, abbiamo... La roba elettrosargente, vecchio! Cosa? La roba elettrosargente. Ti ricordi? Elettrosargente di PHSV. Quello è il tuo fratello Electro Blaster. Non so assolutamente di cui tu stia parlando. Davvero? Tu non hai mai giocato a Yugi fuori da questo video. Non sai da che... È un archetipo di Dexal, uscito in Photon Shockwave. Non so assolutamente... C'era una carta, c'era solo una carta. Ah, vabbè, se c'era una carta mi dai il beneficio del dubbio. Stampata, stampata c'era solo una carta, nell'anime c'era tutto l'archetipo. Ok, e dieci anni dopo Konami ha deciso di inserirlo dentro questo set. Ha due carte a caso per dirlo. Grazie per avermi dato news aggiuntive in merito a una cosa di cui non me ne fregava assolutamente niente. Ma va bene, così. Altra cosa di cui non me ne frega assolutamente niente, di cui Konami aveva assolutamente bisogno di inserire una ristampa, è ovviamente Senjenjin, che... Va bene? Ok, grazie. Poi, cane da guardia. Mi fa molto ridere, ragazzi. Il tuo bersaglio non puoi evocare, specialmente per il resto del turno. Potrebbe anche risultare una carta buona nel 1993. Però nel 2024 la vedo un po' lenta, se non mi fai tipo set o libro dell'eclissi. No, libro di Taiyo. Quindi va bene. Ah, fuck. Poi altre cose di cui me ne sbatto altamente i coglioni mi sembra siano solo loro due. Perché tu le guardi e dici, ma la vita è palesemente ingiusta, c'è un problema. Poi, tornando adesso alle stampe buone, abbiamo ovviamente... Genex alleato Birdman. Sì, ma quello un attimo è di Archetipo, volevo parlarne dopo, però ovviamente... Di Archetipo? Genex. Archetipo Genex. Non mi sembra di aver detto una cosa. Gioca quella roba, vero? Ah, in 2011. Scusami, è lo spammino più forte della storia, figa. Provano a giocare in Dark World, è anche forte. Va bene, va bene. Comunque, allora, come altre ristampe carine che Konami ha voluto inserire dentro questo set andando totalmente fuori strada, sono il Diviner, che la gente ovviamente si è lamentata per il fatto che non stava all'interno della Rarity e l'hanno messo qua, che comunque ci sta. Il problema è che le persone pensavano, cazzo, ma me lo fai Ultimate? Perché? A parte che la versione Ultimate costerà 6 euro, sicuramente. Però, ok, grazie Konami per averlo messo pure qui Ultra. Poi, abbiamo tutto Sprite che... Obvio dio Sprite! Ma, ragazzi, Konami aveva detto che l'avrebbe messo all'interno di Tin, stai togliendo value ai Tin, ed è una cosa che effettivamente mi preoccupa. Oh no. Guarda, mi sorge questo dubbio. Faranno lo stesso trick dell'anno scorso che avevano messo l'Enchantress all'interno di BLMR? E lo metteranno all'interno di Sin? Secondo me sì, però non credo che questa cosa verrà fatta per Sprite, ma verrà fatta dopo, per una carta che vedremo dopo, che è l'incredibile Kurikara. Per quella io ho sensazioni contrastanti. Da un lato spero di no, perché ne ucciderebbe totalmente il valore, dall'altra credo di sì, visto che l'hanno già fatto con l'Enchantress. E poi la piazza Nonirarity Collection 3. Va bene, sì, potrebbe succedere anche questo. Vediamo se succede anche per Sprite, perché allora attualmente le prevendite di tante carte stanno ancora attanto, tipo Zampillo. Però il prodotto non è ancora uscito, è questo l'ho fatto. E vabbè, qua ovviamente di Sprite hanno messo tutto, hanno messo da Sprite a Blue e anche l'altra, quindi va benissimo. Altra carta che avevamo cannato è Arpa. Arpa ci sta, è una carta che mi aspettavo all'interno di questo set. No, non è che me l'aspettavo, però nel senso ci sta come ragionamento, perché me l'hai sbannata, me l'hai messa a due o tre, adesso non ricordo, e non aveva avuto ristampe, quindi ok. L'avrei preferita ovviamente in rarità Secret, però chi sono io per scegliere le rarità delle carte. Poi abbiamo Cartesi anche, come tutto il resto di Branded, tranne ovviamente Opening, se non ricordo male, QM che ovviamente starà all'interno dei TIN. E quale altra manca? Ah, è l'altro nuovo di luce, quello che sta in CIAC, che ovviamente non sono stati messi, ma staranno all'interno dei TIN. Opening non lo so, però da qualche parte spero la metteranno, visto che il prezzo sta in continuazione salendo, visto che Branded è tipo un mazzo immortale. È come Sky Striker, ragazzi, la Konami lo adora e effettivamente non lo tocca. Mettiamola così. Poi abbiamo... Oh, lui, avevi veramente bisogno di Skygon in questo set, vero? Vero Ernst? Sì, sì, aveva solo monoprint e stava... Dovevo lasciarlo com'era! Eh, vabbè. Che cazzo li vendo adesso quei cosi? Non li vendi, non li vendevi prima, figuriamoci adesso. Porca puttana. Poi, vabbè, abbiamo altra roba spicy, questo cos'è? Ah, Barox, altra carta di... Altra fusione, che ho venduto... Questa l'ho venduta a 15 euro. Anculo. Poi, vabbè, eh... Vabbè, uno... Facciamo stare. Vabbè. Lei, che ovviamente era stata sbandita, se non ricordo male, e toccava... Aveva toccato i 20 euro, quindi top. Stesso discorso, ragazzi, per Arpa, come Snatch Steel che vedremo dopo. Poi, qua, tutta roba normale, tutta roba che, vabbè, ci aspettavamo. Eh, roba a caso, roba a caso. Ah, ragazzi. Qua abbiamo, vabbè, il Phantom of Hubel. Che ha fatto spaicare il trono a un prezzo insensato, 40 euro. Ringrazio a tutti quelli che l'hanno comprato, perché adesso lo venderò a 45, godo, da 15 che stava. Poi, poi, abbiamo ovviamente Blaze Supreme, Ruler of All Dragon. Questo è incredibile. Questo è l'Xis Dragon Ruler. Cioè, è quello che volevo dalla vita. Mi fa molto piacere. Cosa? Aspetta. No, lo stavo leggendo, scuso. Ah, ok, scusa. Dai, leggi. Cosa fa? Non mi accollo il diritto di leggerlo. Faccio leggere a te, scusa. Una volta per turno, puoi staccare un materiale da questa carta. Distruggi una carta in mano sul terreno di avversario. È una carta che, o una carta che l'avversario controlla. Bene. Puoi bannare due draghi o mossa di tipo fuoco dalla mano del cimitero. Evoca specialmente questa carta dal cimitero. Però, ritorna nell'extra deck quando lascia il terreno. Questa sembra l'incipit del ok, facciamo la versione Xis di tutti i Dragon Ruler. Questa è la, palesemente, versione di Blaster Xis. Poi, a un certo punto, tu giocherai questa carta contro un mazzo chiamato Fire King. Gli spaccherai una carta in mano, lui farà partire full combo e tu piangerai. Eh, vabbè, sono cose che capitano. Sì, esatto. Probabilmente sì. Comunque sia palesemente la versione Xis di Blaster. Quindi ci dobbiamo aspettare le altre tre versioni. Beh, io mi sfregherei le mani. Anzi, l'avrei fatta tutti insieme nello stesso set. Poi! Eh sì. Per un'idea buona che hanno, come minimo, devono fare altri tre set diversi per farli andare bene. Hai ragione, scusa. Poi abbiamo, ovviamente, Scambiorana, Secret, che non farà più vendere la mia da Lodot vecchia, a 15 euro, grazie a Konami. La fine di Anubis. Aspetta, non ne capisco la ristampa, più che altro, perché ristamperanno Lodot a breve, quindi potevano anche non metterla, nel senso. Non c'è una versione foil. Anche quello è vero, però la rara è una foil, la comune non è foil, perché ha la scritta argentata. Beh, dipende, se stampano Lodot col vecchio layout e con lo stesso tipo di printing, anche quella lì rara, costa un bot, come minimo, un limited, normale, scende come una mina. No, no, ma tranquillo che anche quella vecchia da Lodot risalirà di prezzo, fidate, 100-100. Anche questa, questa ho visto sul car market, in prevenzione sta a 5 euro e a 5 euro si vende, quindi è una carta che arriva a 10. Oh, da Anubis? No, no, scambio rana. La fine di Anubis forse con, tipo, due anni di ritardo, però ok, va bene. Oh, io l'abbiamo, sì, boh, io ho le secret, quindi... Sì, sì, ma cambia poco. Poi, vabbè, abbiamo Kurikara, come abbiamo detto prima, poi abbiamo, vabbè, carta Infernoide. Carta Infernoide, praticamente, a parte Tierra. Ah, ulti degli apelli, comunque la ristampa ce l'ha, eh. Allora, boh, l'unica carta che non ho stampato è Tierra, è l'Infernoide. No, Tierra, poi... Ah, no, colui c'è. No, Tierra è quello che ti ho fatto vedere prima, quello che fa da Corvo, praticamente, livello 2. Per il resto c'è tutto. Antra, Antra non c'è, vero? Antra, ecco, è lei che manca. Poi abbiamo, vabbè, ragazzi, questa, questa godo un po', perché toccava, cioè, erano usciti i supporti. Stava a 25 euro, dovevano assolutamente ristamparla. E adesso sta a 5. Bellissimo, bellissima la situazione. Poi abbiamo anche la roba, come si chiama, ghiacciogiada, che si gioca all'interno di Barrile di Ghiaccio. Sono molto contento, visto che lei e il Synchro stavano salendo, tipo, sopra i 10 euro l'una. E non è male. Cioè, non è male, è un po' un problema. E per concludere, poi, abbiamo tre carte interessanti, che sono le Alternative Art di Rai, Rose e, ovviamente, il Dragon Master Magia. Queste qui sono solo quarter. Non esiste la versione normale. Finalmente la Konami ha capito che deve fare delle robe esclusive, che dà gusto da sbustare, come le Alternative di Pokémon. Finalmente, brava Konami. È la mossa giusta. Ho sentito la mentella in merito al fatto che, eh, no, ma non potrò averla perché me l'hanno fatta anche di un'altra rarità. Non cagate il cazzo, ragazzi. Almeno c'è gusto nel provare a trovare una carta esclusiva. Mettiamola così. Come Alternative Art, ragazzi, Konami non ha fatto solo loro tre. Abbiamo una carta per Infernoid, che è lei. Immaginazione del Vuoto, che è tipo la Super D'Acore che costa tanto. Poi abbiamo anche il Medaglione, che non è male. Molto più carino dell'altro. Qua si vedono le due tipe che prendono il Medaglione. È il Saccino, praticamente. Ovviamente abbiamo anche Beardman. Carino perché qua si vede come sfondo la terreno degli alleati della nebbia. Ed è molto carino. Della valle della nebbia. Sì, della valle della nebbia. E come ultimo, come spirituista, abbiamo anche l'Alternative Art di Ulti Canowoc, che alla fine ci sta. Hanno messo sia delle Alternative Art trovabili che quelle esclusive, che ovviamente costano di più e non intaccano effettivamente i mazzi che devono essere sponsorizzati qua dentro. Mi dispiace un po', però, che sono state fatte tutte in versione Ultra e non Secret. Cosa che gli avrebbe dato maggiore bellezza rispetto all'Ultra. Mettiamola così. Però, ok. Adesso, ragazzi, capiamo un attimo se effettivamente ne vale la pena di sbussare questo set. Ovviamente ho sentito tante polemiche in merito a questo set. Sia per il fatto che non c'è la piccola Goddess, che tanta altra roba. Però, io vi voglio far capire una cosa. Questo set è dedicato alle carte Dual Terminal. Ok, quindi nel momento in cui hai i supporti a quei mazzi, il set fa quello che deve fare. Ovvero, darti quei supporti. Sono d'accordo assolutamente che mancano delle carte. Perché mancano delle carte, ovviamente, Spirit Beast, mancano delle carte Barilo di Ghiaccio, mancano delle carte Genex, che ovviamente sono poco rilevanti perché nessuna è specata. Ovviamente sì, mancano delle carte, ma non mancano la piccola Goddess e tutto il resto. Quello che manca effettivamente sono alcune carte che effettivamente fanno parte dei vari archetipi che stanno qua dentro. A parte Sprite che qua dentro non c'entrava niente, però fa piacere comunque che ci sia. Ragazzi, effettivamente qua per Infernoid manca Andra. E vabbè, è una carta che sta in euro, cambia poco. Ma se prendiamo tutto il resto è un disastro. Per quanto riguarda Genex, mi sembra non siano cambiati i prezzi, quindi va bene, non è un problema se manca qualcosa. Ma il problema arriva su Spirit Beast e Barilo di Ghiaccio. Barilo di Ghiaccio manca tutta la roba che stava nello Structure, che attualmente la roba è specata tantissimo. E lo Structure è di tre anni fa, i negozi hanno alzato i prezzi, ovviamente, anche troppo. E per Ritual Beast manca effettivamente Elder, che attualmente sta a 12 euro. Insieme anche ad altre cartine piccole come il Delfino, la Fusione Delfino e altre robe. La Travata Destrier, Bestia Spirit, le Trappole, le Spell, cioè, che sono importanti? Quelle stanno a poco. Il problema è Elder, che ha toccato i 12 euro a carta. Cioè, quella... Ma è normale. Sì, ma... È la logica dei Battle of Legend. Ma è quello il problema, cioè, quella carta manca. Eh, ma quella carta che fa sì che il negozio compri il prodotto Battle of Legend, così rivende anche quella palta che aveva prima del Maestro Bestia Spirit e può farci dei soldi. È normale. Ma a Konami non gliene frega niente, nel pratico. A Konami gli interessa che... No, no, queste sono mosse di mercato per far sì che chi compra il suo prodotto sigillato rimanga anche così, perché tutti quelli che... I negozi che li vendono, chi ti compra il prodotto sigillato, li vende le singole. E sono tutti meccanismi di mercato storti. È normale. Ovviamente non decidono in base a quello. Non è che dicono non ristampo questa carta perché me l'ha detto X, però dico una carta a caso non la ristampo, o due, così il mercato continua, se no il mercato muore. Mi, perché alla fine Konami nel momento in cui ha dato via il prodotto, il suo l'ha fatto. Cioè non ti va a dire ok, così facciamo salire questa carta. Konami dice che questa roba non frega assolutamente niente. Diciamo che è più la questione del prodotto incompleto, ma per questi motivi. Non per il fatto che manca la piccola goddess. Perché la piccola goddess, per quanto sia una carta interessante e utile adesso, non c'entra niente col prodotto. Cioè quello che manca è quello che serve agli archetipi che mi stai ristampando e a cui dato supporti. Cioè alla fine, nel complesso, è un prodotto valido, tra virgolette. Perché comunque c'ha tre mazzi molto carini. Non saranno meta, però sono carini. Poi ci stanno tutte le reprinte branded, ci stanno tutte le reprinte di sprite, ci sta Snatch Steel, ci sta Ibb, ci sta altra roba. Cioè non è un prodotto spazzatura come potrebbe essere un vecchio Battle of Legends. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, gli ultimi tre Battle of Legends erano veramente terribili. Qua c'è roba simpatica. Qua da gusto anche sboostarlo, perché comunque puoi trovare delle quarter che hanno degli artwork che effettivamente sono esclusivi. Cioè tu le puoi trovare solo aprendo questo prodotto. La Rai e la Rose così, sono in questo modo le becchi. Stessa cosa il drago bianco col mago nero del caos. Poi... Prossima carta da 500 euro. Non credo adesso. Però, nel senso, è un set che è un mucchio di roba. Perché secondo me ha perso un po' il focus il prodotto. Rispetto a quello che effettivamente doveva essere. Perché, come ho detto, mancano determinate carte. Però, a parte le cinque carte spazzatura, buttateli a caso. Che non servivano a niente come Sengenjin. Comunque becchi. Scambio rana per il retroformat. Becchi la carta Romagus che stava a 25 euro. Snatch Steel, Foil. Insieme anche a Arpa e Ibb. E poi ci hai buttato dentro la divinatrice. Ci hai messo alcune alternative art dei mazzi principali. Dice ok. È un box da 7 e mezzo. Mettiamola così. Sicuramente ha delle falle. Ha delle falle che potevano essere risolte. Spero che Konami, ovviamente, in qualche OTS da qualche parte. Mi ristampi, ovviamente, le tre carte mancanti. Che di base servono. Elder in primis. La roba da structure. Barrile di Yatch. Vabbè, quella è un pochino più secondaria. Però Ibb, cioè, essendo TSHT, come si chiama? The Secret Force. THSF. Sì, The Secret Force è un set che oramai ha, ragazzi, più di 10 anni. Mentre lo structure deck... No, no, ne ha 9. Non cambia niente. Cioè, lo structure deck barrile di ghiaccio ce n'ha 3. La situazione è differente. Quindi, boh, come ho detto, è un prodotto da 7. Ci sta a sbustarlo. È carino. Ovviamente, ragazzi, ne apriremo un box insieme. Sono un po' deluso per queste paio di carte che mancano. Poi, sì, hanno attappato i buchi con roba ovviabile, tipo questa. Però, alla fine, ragazzi, è un Battle of Legends. Non mi aspettavo altro. Mi aspettavo questa tipologia di carte. Perché, praticamente, è l'Animation Chronicle giapponese traslato in Italia. Con, ovviamente, cose riempitive. Ma, ragazzi, sta roba qua, che vedete qua? Questi, questi. Tutta roba di Animation Chronicle. Non di altri set. Quindi, è quel prodotto portato da noi. Noi, ovviamente, abbiamo aggiunto la roba Sprite. Abbiamo aggiunto Scambiorana e tante altre. Vabbè, ragazzi, questo è il nostro parere in merito a Battle of Legends. Ah, comunque, Erens, tu cosa ne pensi? Non ti ho chiesto, effettivamente, se ti piace o meno. A me piace. C'è Beardman Alternative. Ok. A Erens basta poco. È contento così. Comunque, ragazzi, voi fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del prodotto, se lo acquisterete o meno, e nel caso, link di Fantasia Store qua sotto in descrizione. Detto questo, ragazzi, state me easy e noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.